Numeri in crescita per Villa Carlotta, Museo e Giardino Botanico a Tremezzina che richiama visitatori da tutto il mondo. Dal 20 marzo scorso ad oggi i dati parlano di una stagione molto positiva. Adesso siamo a quota 228 mila visitatori, quindi devo dire che abbiamo già più o meno raggiunto quello che era il numero dello scorso anno. E anche i visitatori sono un po' mutati perché al turismo tedesco si è sostituito quello francese almeno come prima provenienza straniera. Nella storica di Mora l'arte dialoga con la natura in un contesto paesaggistico che non ha uguali. Il parco dalla primavera all'autunno affascina il visitatore ma sono numerosi gli eventi e le mostre che vengono organizzate all'interno della villa. Villa che venne edificata alla fine del 600 dai marchesi clerici di Milano. E proprio da qui parte la mostra Splendori del 700 sul lago di Como, Villa Carlotta e i Marchesi Clerici aperta fino al 3 novembre. Esposizione che ruota attorno ad un nucleo di dipinti barocchi che rappresentano la più importante testimonianza superstite sul lago di Como del gusto e della committenza artistica dei clerici. Si tratta dei tre grandi quadri del legnanino di Filippo Abbiati e Paolo Cazzaniga. E per il prossimo 26 ottobre dalle 15 è in programma un doppio appuntamento. Nei saloni storici spileranno in costume settecentesco dei ballerini professionisti per cui sarà possibile ammirarli sia all'interno della villa che anche nel parco. A seguire ci sarà una breve conferenza sui restauri che sono stati fatti grazie anche alla fondazione Comasca su tre dipinti che originariamente erano diciamo collocati nell'oratorio clerici poi sommariva e adesso sono arrivati a Villa Carlotta. Villa Carlotta chiuderà la stagione il prossimo 3 novembre con una riapertura a tema natalizio per il Ponte dell'Immacolata.